Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto al titolo a grande richiesta vi spiegherò come ottenere tutti quanti i personaggi sbloccabili nel colpo del casino quindi i tre personaggi sono ovviamente un tiratore un hacker e un guidatore per quanto riguarda come vedete ce l'ho tutti e tre bloccati ovviamente ho sbloccato per ora solamente il guidatore poi c'è un bonus ovviamente che vi farò vedere quindi come vedete il guidatore è zach nelson quindi per sbloccare lui è veramente semplice per gli altri due ci vuole un po di tempo in particolare appunto per il tiratore è molto difficile da sbloccare ci dovete perdere parecchio tempo invece per quanto riguarda il hacker è semplicemente un tutorial da seguire quindi come vedete per sbloccare zach nelson che sarebbe colui che vi dà l'accesso alle moto non è neanche tanto necessario perché le moto diciamo al colpo del casino sono scomode quindi per prima cosa per sbloccarlo dovrete possedere un motorcycle club va benissimo qualsiasi motorcycle club l'importante è che abbia l'officina quindi quando lo comprate dovrete mettere anche l'officina ovviamente dovrete fare il diciamo la preparazione e vi sbloccherà automaticamente zach nelson quindi come vedete io ce l'avevo già sbloccato il secondo personaggio è young ancestor per quanto riguarda young ancestor potrete sbloccarlo semplicemente possedendo un attico di lusso e andando o durante la preparazione quando fate il sopralluogo oppure normalmente nel vostro attico quando andrete nella terrazza a me qui non mi fa la schermata con l'animazione perché l'avevo già sbloccato se non erro tipo dieci mesi fa anche se il dlc è uscito sei mesi fa comunque l'animazione me l'aveva già fatta comunque quando vi farà l'animazione poi vi arriverà una chiamata di lesser che vi dirà che vi ha sbloccato young ancestor a cosa serve semplicemente vi permette di entrare nel casino in modi diversi in seguito abbiamo l'hacker quindi per schwarzman dovrete semplicemente distruggere i 50 disturbatori per la mappa di los santos semplicemente se avete un oppressor oppure un buzzard è molto più semplice perché con i missili automatici ve li aggancia voi dovrete semplicemente sparare sono 50 come vedete vi lascio in descrizione un tutorial da seguire quindi voi andate nelle posizioni spiegate in mezz'oretta più o meno fate tutto ovviamente se avete l'oppressor se non ci metterete di più anche con il buzzard si può fare in alternativa vi lascio anche la mappa da seguire quindi volendo se non volete vedere il video vi guardate la mappa e vi sbloccate l'hacker al cinquantesimo coso distrutto insomma vi uscirà la notifica che avete sbloccato l'hacker invece per l'ultimo patrick mcrary è tosto da sbloccare perché è un evento casuale che spawna una sessione per farlo spawnare dovrete essere in una sessione pubblica con almeno tre persone attive quindi tre persone più voi quindi in totale quattro persone queste quattro persone dovranno semplicemente giocare a gt online semplicemente andate in una sessione pubblica nulla di più semplice e diciamo patrick spawna in queste zone disegnate sulla mappa quindi voi cosa dovrete fare dovrete semplicemente andarci spawna non c'è un orario preciso spawna a fortuna vi uscirà appunto questo camioncino della polizia che sta trasportando appunto un prigioniero dovrete ovviamente uccidere il prigioniero e insomma ovviamente scortarlo è abbastanza semplice come vedete la missione il problema infatti è farla diciamo spawnare per farla spawnare io vi consiglio di andare nei punti che vi ho cerchiato sulla mappa e semplicemente stare lì per 4-5 minuti se non riesce a cambiare sessione e riprovare quindi ragazzi spero che questo video vi sia stato utile se siete nuovi iscrivetevi al canale per i migliori contenuti uggiti online e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti